100 secondi di comunità Siamo una compagnia di teatro, produciamo spettacoli e progetti teatrali di drammaturgia contemporanea. Quello che stiamo facendo inoltre sono anche alcuni laboratori, un laboratorio di narrazione per over 65. Partirà poi a breve un corso invece per gli adolescenti, quando parliamo di adolescenti parliamo di ragazzi degli istituti superiori. Inoltre a Dabbiategras collaboriamo con la tribù Onlus per un laboratorio di teatro per le loro utenze che sono fatte essenzialmente da ragazzi arabi. Il secondo anno noi che lo facciamo è partito l'anno scorso con alcuni di loro, il percorso è andato avanti e si è creato anche un certo tipo di rapporto. La cosa più complicata forse è appunto l'incontro tra le due culture insomma, abbiamo dovuto capire delle loro esigenze che per noi erano strane diciamo, ma per loro non lo erano. Di sicuro è stata un'esperienza molto stimolante perché banalmente ti mette davanti a cose a cui non penseresti, perciò ti trovi a dover affrontare delle sfide. Il teatro sicuramente è un mezzo culturale. Se partiamo da questo presupposto, uno dei maggiori mezzi secondo noi che serve ad integrare è la cultura, è lo studio, è il conoscere le cose. Se ancora di più diventasse cassa di risonanza, il linguaggio teatrale per noi sarebbe un ottimo obiettivo raggiunto. Sì, poi ci piacerebbe molto fare rete insomma, coinvolgere anche altre realtà, altri paesi, altri luoghi insomma.